Allora siete in tanti, anzi in tantissimi, che mi chiedete informazioni sui nuovi aceri entrati in collezione, ok? E come avete visto il primo è già andato, ho fatto il video, poff, è andato. Il secondo c'è stasera, quindi velocizzatevi, preparatevi, perché tanto sono sicuro che andrà a finire come ieri, sono sicurissimo. Tra l'altro sto buttando giù le date per l'open day, quindi se volete venire qua in laboratorio con gli altri miei discepoli siamo in 60, ok? Non è una cosa per quattro coglioni, siamo in 60, ok? Entrate nella masterclass, entrate nel gruppo, così prendete consigli dai miei discepoli, i migliori, in più fatele dirette con me, avete otto videocorsi e così imparate seriamente da chi sa fare bonsai, ovvero dal dio del bonsai, da me, ok? Per quelli che vogliono vedere prima degli altri le piante, ragazzi se voi mi scrivete e mi dite sì io la prendo, io ve ne faccio vedere due foto, se avete i soldi pronti per me non ci sono problemi, anzi mi vengo incontro tranquillamente con un pagamento dilazionato, un ritiro magari fra un mese, fra due mesi, tranquilli si fa tutto. Però, visto che alcuni sono messi a piangere, tra l'altro oggi ho fatto un workshop, un leccio della madonna che verrà fuori, una bomba esagerata. Ok, questo è un altro acero, vi piace? Non vi piace? Ok? È conico, è compatto, è bello, spara da tutte le parti, guardate che roba, è una roba allucinante. Quindi se vi piace, se volete, questo tra l'altro lo farò vedere fra due giorni, ok? Fra due giorni farò il video anche di questo, l'ho già fatto, è già programmato sul canale. Però ve lo ripeto, se lo volete scrivetevi prima perché poi rimanete inculati voi, mica io, a me non me ne frega un cazzo, ve lo ripeto. Se non lo vendo, so già che lo vendo, però se non lo vendo, mi rimane il prossimo anno due fili, due rami in più, 300 euro in più, punto, fine, c'è poco da fare, ok? Un saluto a tutti, iscrivetevi, no perdi tempo, no curio, non do altre foto. Questo basta avanza, è una bomba, questo basta avanza, guardate. Ok? Più di così, che cazzo dovete vedere? Ma dove cazzo li trovate? Degli aceri campestri come quelli che vi mostro io. Non c'è più niente in giro, tutta mondezza, il numero uno lo sa e lo sapete anche voi, ok? Quindi, preparatevi, stasera c'è una bomba della Madonna, una cera campestra della Madonna. Spero che sia, spero veramente qualcuno di voi riesca a prenderlo. Dopodomani c'è un altro, anzi domani c'è un altro e dopodomani c'è questo, ok? Quindi se lo volete agite prima degli altri, perché se no rimanete inculati e poi dopo vi mettete a piangere, ok? Fate bravi. Ciao a tutti i miei discepoli.